Amici di Android Blog, Asus New Padphone A86 che sta riprendendo queste immagini, andiamo subito a tentare un contro sole, eccolo qua finalmente il sole, andiamo di nuovo a luci più normali, camminiamo un po' per vedere quanto rimane stabile il video, avviciniamoci al nostro vaso di fiori, non sono riuscito in nessun modo ad attivare il fuoco continuo, questo mi fa pensare che non sia presente, vado adesso a fare il tap per mettere a fuoco, come vedete con il tap funziona bene, torniamo a campi più ampi e al conseguenze tap per la messa a fuoco, muoviamoci velocemente verso destra e verso sinistra, andiamo a tentare uno zoom, possibile anche alla risoluzione massima che è per questo video a 1080p, quindi full HD per questo video girato da Asus New Padphone A86.